ciao ragazzi e benvenuti alla puntata della vigilia di natale 24 dicembre 24esima puntata conclusione dell'avvento oh finalmente no dai beh grazie anche quest'anno ce l'abbiamo fatta l'M6 ce l'ha fatta ha tenuto botta perfettamente il mio computer stava già andando in crisi infatti adesso appena finito questa puntata provvederò a formattarlo e reinstallarlo completamente perché ok bene anche quest'anno è andata io spero che il mio contributo alla causa del retro gaming in italiano sia piaciuto vi sia piaciuto spero di avervi mostrato dei bei giochi di avervi fatto venire voglia un po magari di esplorare i sistemi msx so che alcuni di voi ce l'avevano alcuni di voi hanno cominciato con l'M6 però magari altri no e io spero di aver portato dei giochi interessanti e magari aver fatto conoscere questo home computer che è stato un po' in sordina però ha detto la sua e sta ancora dicendo la sua come la maggior parte degli home computer degli anni 80 ci sono dei programmatori che tutt'oggi programmano quindi voglio ringraziare un po' di persone prima di partire con l'ultima puntata allora innanzitutto Babich grazie mille cioè tutta la Kenobi's World Production in particolare Babich perché è stato fatto partire un po' tutti gli adment show grazie per avermi dato la possibilità di usare le due canzoni nella sigla all'inizio di questa stagione e per avermi nella fine stavo ripensandoci tempo fa ho cominciato a fare video perché ho visto i video della Kenobi's World Production e non c'era nessuno che li faceva su msdos e sulle msx e ho detto ma sì beh li faccio io quindi grazie mille davvero poi ringrazio i miei compagni avventori che mi hanno accompagnato in questo in questi 24 giorni Ross Wildstar che ha fatto l'Amiga Advent Show bravissimo ciao Ross grande mi dispiace di non potervi che comunque abitiamo distanti perché se sì mi piacerebbe scambiare quattro chiacchiere con Ross dal vivo però chissà come mi piacerebbe scambiare quattro chiacchiere dal vivo con Funk Metaller che ha fatto il suo adment show su Game Boy ciao VDG Funk Metaller il pole di gomma che anche lui si è intrufolato e l'ho scoperto grazie a un suo commento sul mio primo video mi sembra quello di Lazy Jones e anche lui ha fatto un advent show mischiando un po' di sistemi comunque ha portato degli giochi interessanti e mi è piaciuto seguire anche lui quindi ciao pole di gomma e Vanak ciao Vanak che ha portato il suo un suo advent show molto intimista cioè ha fatto un long play di Monkey Island 1 e 2 senza commento senza webcam solo gioco e la musica Roland e anche con Vanak spero prima o poi di riuscire a incontrarci dal vivo e poi ringrazio voi cari spettatori cari utenti di questo mio canale youtube che mi avete supportato anche solo con un commento positivo con quelle chat durante le premiere grazie non sembra ma vuol dire veramente tanto non sto scherzando a volte basta un commento non deve neanche essere chissà che basta un commento sincero al punto giusto al momento giusto per darti la carica per fare altri 50 ore di video e non è da sottovalutare questa cosa quindi grazie anche a voi e finalmente posso ringraziarvi adesso ho dovuto farmi un file perché siete veramente veramente tanti la mia memoria è quello che è quindi partiamo con l'elenco della lista di ringraziamenti Credits Agia Sofia ciao AlbuMD2 ciao grazie mille anche a te Alexman ma grazie Angelo T chissà cos'è la T speriamo noi il Tvirus ciao Cliff ciao Danilo Della Farano nella tua retrotana grazie grazie davvero Davide Ghigna grazie mille Divoratore75 Mosbic eccetera eccetera ciao grazie Dab Vallo grazie anche a te ciao Fabio Retroplay questo qua è la MECOM PAESAN Francesco Bicci ciao grazie mille per avermi seguito per avermi... cioè ciao Francesco Daguanno grazie anche a te Gianni Cappelli lui in più sulla MS-DOS comunque grazie per aver seguito tutta questa roba grazie anche a Giuseppe Calabrese e grazie anche a Giuseppe 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 retroconsole Glorfine275 grazie mille anche a te e anche a Havon Fersen lui del gruppo MS-DOS Italia ah il pol di gomma t'ho messo due volte via Luca Merler o Merler di Trento uh Immenso Magnum CDI ciao e grazie anche a te ciao anche a Manu Manu Marco Galliani che è il mio PR nei social Massimo Belardi fantastico di quanti giga la panca Maximilian Privat del gruppo MSX Italia ciao e grazie mille Michele Lepri grazie anche a te uh MPJD Twitch che fa roba strana Ragarazzo grazie mille Rabbit Magazine ciao ciao grazie anche a te grazie anche a RetroLuca79 Turbillone Veynton che mi segue da uff grazie anche a Videobigini mamma mia che onore e anche a XgauciX mi sono dimenticato Nightmare mi sono dimenticato Nightmare ciao Nightmare grazie grazie mille e sicuramente me ne sono dimenticati altri ma siete tanti e grazie davvero davvero grazie bene partiamo l'ultimo gioco l'ultima sigla del 2021 sigla e come gioco dell'ultima puntata dell'8bit of Christmas ho pensato di scegliere Relevo Snowboarding della Relevo 2020 beh perché perché c'è la neve e secondo me un gioco con la neve è proprio gioco di Natale allora facciamo partire il mio MSX1 con la sua bella mega flash rom e direi di partire subito con eccolo qui il rogo il rogo della Lelevo Lelevo Snowboarding sento già odore di odore di Konami eh Game Start spero che si sente il suono si sente il suono alzo un filo mamma mia i volumi problemi tecnici di questo 8bit of Christmas allora scegliamo un po' il colore io sceglierei questa perché avevo una tuta della mi ricordo che è marker colori simili poi possiamo scegliere la board il nostro snowboard quindi il type A abbiamo di tre valori velocità controllo esatto type B type C type D ma adesso non ho un po' indeciso fra l'A e il D in effetti ma io farei l'A e il D cioè perché ho la no farei il D perché ho un controllo molto alto un po' meno veloce che va bene per i miei riflessi rallentati dall'età stance regular o goofy? no regular let's go ed è Asian course ah beh comodo praticamente con lo snowboarding andiamo dal Giappone a cos'era tipo la Turchia no? vabbè ok comodissimo perfetto Relevo Snowboarding cos'è? è tipo hang on hang on hang on misto athletic land messiva la misto antarctic adventure sullo snowboard fighissimo Relevo ci ha deliziato con un sacco di giochi per msx e con il tasto di fuoco accelero e con il joystick sinistra a destra ovviamente mi sposto a sinistra a destra mentre indietro premendo indietro vado a frenare ma in questo caso non ci interessa guardate come fa la mossa la Michael Jackson di Thriller incredibile sta cosa e dobbiamo adesso adesso è facile in alto a destra in alto a destra vediamo la mappa anzi la mappa l'indicatore di distanza che ci dice a che punto siamo di questo segmento musica molto carina warning ci sono anche degli alberi in mezzo alla pista non è molto sarà la pista nera però in mente la pista doppio rosso chissà come io non so assolutamente niente di e too late too late ma sono riuscito a fare un 720 perché quando ogni tanto ci sono questi salti e se io salto giusto così good perfetto riesco a fare qualche trick col mio snowboard e avere dei punti aggiuntivi in questo caso ho fatto un backside 720 ma potrei farne molti di più anche se non fossi completamente rincon eh però sì beh indietro riesco a frenare quindi rallentare un po' cercare di evitare rischiantarmi chissà se funziona alberi su e alberi giù come nella puntata di Futurano ma non ho intenzione di provarlo wow ah che bello lo snowboard questo gioco qua mi fa gioco proprio da da film no cinepanettoni tipo vacanze di Natale roba al limite dell'imbarazzante già allora quindi figuratevi adesso dopo 30 anni cosa possono essere quei film lì fondale molto pulito ma efficace a me tra l'altro piace tantissimo la tonalità di blu dell'MSX perché ricorda ricorda tanto molto simile soprattutto il ciano alla palette della mia adorata Ega palette della Ega e abbiamo finito il primo stage primo segmento esulta ma fai bene ad esultare perché abbiamo portato a casa la pellaccia potevamo schiantarci su qualche albero e quindi perdere completamente magari non so parti del corpo non voglio neanche saperlo interessante questo go full speed io ci provo anche ad andare full speed ah aspetta un attimo perché ho il bellissimo ho il sospetto che se io premo avanti no carina lì è l'animazione di lui che si abbassa per facciamo un 360 e basta col tasto di fuoco che lui si abbassa per fare meno attrito e quindi andare molto più veloce chissà se posso passare in mezzo agli alberi ma non voglio provarlo voglio fare figuracce più di quante ne ho già fatte quindi mentre io vado avanti a giocare ho il pelo con questa mossa appunto da thriller di Michael Jackson thriller era no? sì par di sì ah ma rallento e basta sì perché c'è questa pece di muschio con la mente del presepe che oh là quindi saranno circa le sette e dieci diciannove e dieci diciannove e dodici all'incirca quindi siete pronti immagino per la vigilia a seconda dell'usanza magari farete il cenone della vigilia o il pranzo di natale io tendenzialmente tendo a fare il pranzo di natale ma ammetto che comunque anche il cenone della vigilia ha il suo fascino il secondo tasto non fa niente il secondo tasto quindi poi ci saranno dei veri classici film classicissimi tipo non so coltrono per due o il green c'è anche oh slalom aumentiamo un po' la difficoltà cerchiamo di slalomare good way cool uh interessante radical ovviamente radical biker time extension no time extension è quella di di daytona racing no daytona racing no daytona no daytona racing daytona e basta quello della sega way cool radical e superb è così mi esalto great come solo great e basta perfect time extension time extension perché? perché nella partita di prova che ho fatto non ero riuscito a a superare lo slalom e mi mancava tanto così per arrivare alla fine del secondo segmento mentre adesso invece ho ancora 29 secondi e mi manca veramente poco quindi sempre io non mi vado a schiantare su oh tutto dritto adesso andiamo avanti e abbiamo superato questo questo livello e dopo però dai 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 su ho scoperto che non ha non ha nessuna inerzia cioè quando il tempo finisce mi fermo lì non è come in alcuni giochi che il tempo finisce perdo la propulsione magari riesco ad arrivare veleggiando in altra guarda no quando il tempo è zero zero ok adesso il cielo è diventato più più violaccio quindi ci siamo prima era azzurro dopo c'è stato freestyle va bene io non so cosa voglio dire no non mi sembra una buona cosa cosa di fare forse devo solo fare non riesco a fare un altro no adesso il prossimo salto provate cosa abbiamo fatto 15 minuti basta basta va bene chiuso proviamo un po' qui no secondo me c'è solo da 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 vabbè insomma comunque provatelo è fighissimo io riguardando sto riguardando un po' le vecchie puntate certi giochi sono assolutamente agghiaccianti tipo master of the lamps mamma mia che figuraccia incredibile poi cos'è anche bank panic però così bravo a giocare sempre nella mia cameretta da sunadai sono un pirlotto ecco dai insomma comunque avete visto il gioco adesso come stai in pausa si con f1 è strana come c'è tanto stop dai voglio finirla qua un po' perché mi stiamo andando anche via la voce è un po' perché è stata una puntata lunga ma ci tenevo a ringraziare tutti voi ringraziare quelli che hanno permesso che questo advent show che questo 8 bit of christmas perché 8 bit of christmas perché ho voluto parafrasare non so neanche insomma il citare la la canzone tradizionale di natale 12 day of christmas e quindi mi sembrava una cosa carina tenere il of christmas numero quindi 8 bit perché 12 days 8 bit of christmas bella che sono d'accordo però insomma questo è il massimo che il mio cervello ha potuto partorire e allora come lo mettiamo per questo 2021 è tutto con un pizzico di nostalgia vi saluto vi ringrazio ancora tantissimo a tutti quanti e vi comunico anche che probabilmente mi prenderò un po' una pausa dei video sulle msx perché perché vi sì sono successe delle cose e mi hanno fatto un po' un po' passare la voglia di quindi magari non so magari mi dedicherò qualche diretta a twitch tornerò sulle ms dos il mio grande amore il mio primo anche se il primo amore è stato il t99 4a però forse tornerò sulle ms dos l msx credo che si prenderà una pausa corposa quello sì però non perdete gli aggiornamenti che magari salta fuori che faccio una mega maratona mi gioco mi scarico tutto il tosec dell msx mi faccio tutti i giochi in fila armato solo di red bull e la scorta di red bull tipo e le scotch per tenere le palpevere su e vi ringrazio ancora di cuore voi non ne avete idea dopo seguite attenzione fra un po' c'è Ross Wildstar con l'ultima puntata prima c'è stato Funk Metaller il pole di gomma e vana che sono stati sparsi nella giornata buon Natale davvero di cuore e grazie ancora e noi ci vediamo presto sigla finale ciao 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 ciao